le stelle di azus benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di azus l'oroscopo di mercoledì 23 agosto ariete in mattinata sarete ancora un po innervositi dalle cose capitate negli ultimi giorni e sarete impegnati a risolvere le ultime beghe che vi siete trovati ad affrontare toro la luna si oppone a giove urano state attenti a non dare di voi un'immagine sbagliata qualcuno potrebbe accusarvi di essere presuntuosi gemelli in famiglia avete tanto da fare spesso non riuscite a trovare il tempo da dedicare a voi stessi alle vostre passioni in amore sentite che qualcosa sta cambiando cancro dopo qualche tensione vissuta nei giorni scorsi vi aspetta una giornata lavorativa molto più tranquilla potrete fare le cose con calma e non vi sentirete sotto pressione leone il sole esce dal vostro segno e voi perderete un po di entusiasmo in mattinata sarete ancora alle prese con i problemi domestici che dovete risolvere grazie all'aiuto di qualche tecnico specializzato vergine in giornata la fortuna vi sorriderà permettendovi di raggiungere i vostri obiettivi abbastanza agevolmente con il sole che entra nel vostro segno vi sentirete in forma bilancia nel rapporto con i vostri cari c'è sempre qualcosa che non funziona correttamente siete troppo critiche dimostrate anche un egoismo che non vi appartiene scorpione sul lavoro non avrete grosse difficoltà farete tutto con rapidità certe volte eccessiva perché l'unico problema di questa giornata può essere rappresentato dalla fretta sagittario sarete preoccupati da problemi di varia natura qualche ritardo nei pagamenti vi mette addosso un po d'ansia in amore non sapete farvi capire dal partner capricorno la giornata inizierà nella maniera migliore la luna vi è ancora favorevole e può aiutarvi in una trattativa d'affari o in un colloquio di lavoro acquario non sarete in ottima forma sul lavoro non vedete l'ora di tornare a casa e svolgerete le vostre mansioni con un pizzico di svogliatezza serata di relax pesci altra giornata favorevole agli spostamenti magari potete pensare ad un viaggio a programmare un ultimo weekend di vacanza parlatene con il partner o in famiglia e con l'oroscopo di oggi è tutto le stelle di azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su facebook alla pagina oroscopo di azus